Da 19 al 23 agosto un viaggio tra fede e tradizione, quello che centinaia di pellegrini affrontano per raggiungere il santuario della Madonna Bruna di Canneto. È una festa ma soprattutto momento di riflessione e preghiera il cammino. Come ogni anno la compagnia di Aquino ha fatto visita alla Vergine nella serata del 23 agosto come da appuntamento centenario e ritrovo poi alle porte del cimitero di Aquino per poi giungere alla chiesa della Madonna della Libera per il rientro a casa della Vergine e per la benedizione conclusiva di Don Tommaso. Il lungo pellegrinaggio è terminato poi con lo spettacolo pirotecnico. Si tratta di una tradizione che ha avuto inizio oltre un secolo fa ma che affonda le sue radici nella storia religiosa delle comunità e trova la sua ragione di essere nella profonda devozione verso la Madonna Nera. Come la tradizione vuole infatti i pellegrini sono partiti il 19 agosto a piedi alla volta del santuario di Canneto a Sette Frati A tappe ben scandite poi le compagnie sono arrivate a Canneto e hanno partecipato al rosario, alla processione, alla confessione e alla celebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio del 23 poi il rientro dei pellegrini accolti dalle rispettive comunità. Un rientro che testimonia e dà prova di ciò che centinaia di fedeli hanno sperimentato nei cinque giorni di cammino fino ai piedi della Madonna Bruna di Canneto.